Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a parlare di una canzone, di un testo che è molto recente rispetto agli altri che abbiamo analizzato nell'ultimo periodo perché è un testo che è uscito il 29 luglio del 2022, quindi quasi un mese fa perché comunque stavo sentendo su Spotify delle canzoni di Marshmallow, che è uno dei DJI più famosi del momento diciamo il più famoso credo che è sulla ribalta internazionale che è uscito appunto con questo testo che ha presentato nel concerto che hanno fatto a Malta appunto di recente, davanti a 40.000 persone e il testo si chiama American Psycho, appunto del producer Marshmallow con Mai Muller e Trippi Red Mai Muller sarebbe la cantante che ha fatto milioni di visualizzazioni con altre canzoni anche e Trippi Red che è il rapper che appunto fa anche un pezzo di rap anche un pezzo di questo testo appunto American Psycho che significa diciamo la psicoamerica la malattia psicopatica americana andiamo appunto a tradurre il testo inizia dicendo I'm a train wreck kinda jealous allora train wreck wreck vuol dire naufragio, rovina quindi in questo caso possiamo tradurlo come un disastro ferroviario kinda vuol dire piuttosto un po' abbastanza e quindi io sono come un disastro ferroviario un po' gelosa sometimes I get a little bit selfish selfish vuol dire egoista quindi a volte divento un po' egoista pessimistic a little twisted pessimistic vuol dire pessimista twisted vuol dire contorto perverso quindi pessimista e un po' contorta but at least I'm not the one that can't admit it ma almeno io non sono quello che non che non può ammetterlo if I had to blame somebody se dovessi incolpare qualcuno then you would be that body allora tu saresti quel corpo you put the tea in toxic hai messo la tea in tossico you are so bad for my health stai così male per la mia salute when I should have hated you quando io avrei dovuto odiarti you made me hate myself mi hai fatto odiare me stesso me stessa but I know better now ma ora mi sento meglio all the lies that I believed tutte le bugie in cui ci credevo why are you surprised that I'm living una domanda quindi perché sei sorpreso che io me ne vada put on quiet a show metti un bello spettacolo true american psycho appunto il vero psicopatico americano e poi inizia a cantare trip read she said that I'm a psycho ha detto che sono il suo tipo ha detto che sono uno psicopatico she said I'm not her type though ha detto che io non sono il suo tipo però I'm out of my mind out of my mind sono fuori di testa sono fuori di testa type si appunto significa il tipo non so il suo tipo I didn't mean to fall in love non volevo innamorarmi I didn't mean to lose your trust non volevo perdere la tua fiducia you used to call me on the phone mi chiamavi abitualmente sul telefono nowadays you only calling me psycho al giorno d'oggi mi chiami solo psicopatica quindi il test è un po' particolare però a livello elettronico è fatto veramente bene perché anche come come l'hanno messa giù è veramente da diciamo disco no? invita ad ascoltarla in questa versione elettronica un po' diciamo non proprio discoteca un po' diciamo elettronica vi invita appunto ad ascoltarla perché anche lei è una bella voce la My Mule è una bella voce e quindi è un bel mix questo di questo di questo di questo appunto producer e quindi American Psycho Marshmallow My Mule Trip Red e ascoltatela appunto con la traduzione in modo che si possa imparare anche soltanto una parola in più in inglese e imparare appunto il significato di questi testi che fanno la storia della musica internazionale quindi vi suggerisco appunto di sentire altri testi di Marshmallow perché è veramente forte e quindi per il momento è tutto ragazzi alla prossima ciao